Derby dal sapore storico, domenica pomeriggio per l'Unitas Sciacca. Al Gurrera arriva l'Acragas, una delle formazioni che ambisce alla vittoria finale del torneo di eccellenza. Si torna in campo quindi dopo un mese, sosta forzata prima dovuta alla pausa natalizia e poi per fronteggiare l'impennata di casi di covid-19. Tutta da decifrare perciò la condizione atletica per i 22 giocatori in campo. L'Acragas, che proprio ieri ha annunciato ben 5 nuovi acquisti, aveva vinto la partita di andata in campionato e aveva eliminato lo Sciacca anche nel secondo turno della Coppa Italia di eccellenza. Unitas che avrebbe bisogno di un risultato positivo, posto che il vantaggio sulla zona play-out si è assottigliato a sole 5 lunghezze. Gli ultras Nero Verdi, da quanto si apprende, stanno preparando delle coreografie particolari per l'occasione, mentre il presidente Gioacchino Settecasi invita tutti allo stadio. Per accedere basterà essere in possesso di Green Pass e di mascherina FFP2. Domenica torniamo in campo contro l'Acragas. Il derby della provincia di Agrigento si affronteranno le due squadre con le città più grosse. Sarà sicuramente una bellissima partita e speriamo che il nostro pubblico, come sempre, ci sia e che sia una grandissima domenica di festa, che è sempre quello che noi ci auguriamo e quindi questo è quello che vogliamo. Giocherà domenica alle ore 15. Per quanto riguarda la normativa Covid, le uniche cose che si devono dotare ai nostri tifosi sono di mascherina e di Green Pass, ma questo ormai siamo abituati a farlo per qualunque cosa, la stessa cosa vale per lo stadio. Una bellissima cosa, ci saranno delle coreografie che i nostri ultra stanno facendo, quindi sarà bellissimo anche vederli, proprio perché questo derby è molto sentito e sarà una partita certamente molto importante per noi. La squadra diciamo che intanto sono serviti queste due settimane di stop. La squadra si è allenata bene, la squadra sta cercando di fare il meglio possibile, sono tutti i ragazzi che ci stanno credendo e continuano a crederci, che è quello che a noi interessa. Noi vogliamo la voglia, la determinazione e che loro vadano in campo per vincere tutte le partite. Poi, come sappiamo, ci sono partite più difficili, partite meno difficili, ma l'importante è entrare in campo e giocarsela fino alla fine. Questo è quello che noi chiediamo e questo è quello che loro stanno facendo. Quindi speriamo veramente che sia una bellissima partita e ce la giocheremo a viso aperto.